Finalmente hai ricevuto una proposta per la tua casa in vendita e nella proposta è citata una clausola sospensiva? Ma di cosa si tratta e cosa comporta? La clausola sospensiva è un patto che sospende la proposta, cioè chi vende ha trovato un accordo con chi compra, ma questo accordo è condizionato ad un'eventualità specifica, per esempio all'ottenimento del mutuo per l'acquisto della casa, oppure alla verifica della regolarità urbanistica edilizia della casa in vendita, o ancora chi compra deve prima essere sicuro di aver venduto la propria casa. Sono condizioni essenziali per la chiusura della trattativa ed è importante inserire questi patti se non si ha la certezza di poter vendere o di poter acquistare, perché nell'ipotesi peggiore, cioè se non viene concesso il mutuo o se la casa non è vendibile, l'accordo diventa nullo e non ci sono penali da pagare. Diversamente se le condizioni si avverano, l'accordo diventa valido ed efficace e si può fissare l'appuntamento dal notaio. E tu? Hai inserito la clausola sospensiva nella tua proposta d'acquisto? Scrivimi nei commenti tuoi dubbi e li affronteremo assieme. Ci vediamo nel prossimo video!